No, fallo vedere al popolo. Prima si parlava delle sfumature, sono 50 sfumature di nero, quelle del centro-destra. Evidentemente una continuità c'è perché altrimenti Salvini non avrebbe fatto le dichiarazioni che ha fatto di apertura a Casa Pound. E francamente non mi stupisce perché non c'è neanche una posizione chiara da parte di nessuna di queste organizzazioni e anche da parte del PD rispetto alla messa fuori legge di organizzazioni che costituzionalmente sono fuori legge. Quindi su questo poi ci sono responsabilità politiche credo serie. Però scusate, se così fosse c'è un ministero, c'è Minniti, se questi partiti fossero fuori legge non sarebbero stati accettati. Non mi risulta, non c'è un ministro che è della nostra parte. Il tema del dialogo Sam me l'ha riaperto stamane Salvini perché mi dice con Casa Pound parlo se entrano in Parlamento. Lo dico a viola Carofalo perché nel centro-destra si dice che il tema sono i centri sociali, in realtà è la violenza espressa dai centri sociali. Quello appunto che fa Berlusconi ad esempio, tra gli altri. Sì, io penso che il tema sia in realtà che cosa interessa dire rispetto a questo voto utile. E mi spiego. C'è il centro-destra che gioca su questa equiparazione che non regge. Perché non regge secondo lei? Secondo me non regge perché è evidente il contesto nel quale si muovono queste persone, lo dicevo anche prima. Noi per fortuna abbiamo ancora una Costituzione che dice che l'apologia di fascismo è reato e che non si può ricostruire il partito fascista. Quindi io ribadisco che c'è una chiara... In ogni caso per me il vero problema è l'appello a questo voto utile. Cioè se c'è una cosa che mi fa più paura del provolone di Di Stefano che mi avete obbligato a vedere, purtroppo c'era il filmato. E chi dice per paura di questi qua, salvo poi non fare nulla per metterli fuori legge, votate noi. Quando c'è stata una continuità fra centro-destra e centro-sinistra assoluta in questi anni rispetto alle politiche. Noi questo l'abbiamo sempre detto e io lo ribadisco. Secondo me il voto utile è votare chi ti rappresenta. Smettiamola di sventolare degli spocchi soltanto per la stabilità perché a furia di stabilità siamo morti di austerity. Allora però io le do, faccio una domanda. Ove mai voi entraste in Parlamento, che ci fate con i vostri voti? A chi si deve formare un governo, potere al popolo, ve l'hai chiamato? Allora noi abbiamo... Perché poi per cambiare il mondo bisogna anche governare, quindi non basta soltanto testimoniare. Per cambiare il mondo noi si possono fare tante cose. Intanto si possono portare delle voci in Parlamento che vanno a dire per la prima volta qualcosa di diverso rispetto al lavoro, rispetto all'ambiente, rispetto alla sanità, rispetto alla scuola. Che è quello che noi faremo quando entriamo in Parlamento. Votare noi significa votare l'unica cosa differente. Tutti gli altri si sono schiacciati su una politica ultraliberista che di fatto è in continuità. Tutti gli altri si possono portare l'unica cosa differente.